57 anni, consulente del lavoro, Eugenio è sposato con Paola. Hanno avuto sei figli, altri sette mai nati sono in cielo. Altri quattro, tutti con disabilità, sono stati adottati. Una di loro ha appena fatto la prima comunione, ma per i medici non sarebbe sopravvissuta al primo anno di vita. Sono i miracoli dell'amore di chi si affida alla provvidenza e adesso una nuova chiamata, quella al diaconato. Un diacono principalmente nella Chiesa è chiamato a dare il suo servizio, ad essere all'ultimo posto. Diciamo che istituzionalmente può amministrare dei sacramenti, è chiamato alla parola, a proclamare la parola, l'evangelizzazione, è chiamato a servire alla mensa dei poveri, quindi a guardare gli ultimi. È una fede maturata nel cammino neocatecumenale, quella di Eugenio e di Paola. Il loro figlio più grande, Francesco, 30 anni, diventerà sacerdote tra una settimana in Canada. La sua vocazione, come quella al diaconato del papà, è nata in una veglia notturna di preghiera nel 2000, davanti alle spoglie di Santa Teresina di Gesù Bambino. La storia della nostra famiglia ci ha sempre portati ad offrirci e a fare per gli altri. Questa chiamata è nata in una veglia notturna che abbiamo fatto con le reluque di Santa Teresina nel 2000, dove abbiamo chiesto delle grazie particolari e ci sono state concesse. A me è stata concessa questa vocazione, a mia moglie è stata chiarita la strada verso l'adozione, a mia nostra figlia per il matrimonio e il nostro primo genito per l'entrata in seminario. Era ordinato presbitero sabato prossimo a Toronto, in Canada. A fianco di Eugenio la moglie, i figli e il padre Damiano, che lo ha incoraggiato in questo cammino di servizio. Era desiderio di Eugenio di poter essere ordinato diacono prima dell'ordinazione di Francesco, il primo genito che sarà appunto sabato l'altro. Io mi sono fatto un po' coraggio seguendo un po' le impronte di Teresina che chiede sempre cose straordinarie nel suo piccolo e ho chiesto al Vescovo di poter accelerare i tempi dell'ordinazione diaconale. Siccome meritava dal punto di vista degli studi perché ha dato tutti gli esami, il Vescovo ha accettato di ordinare un anno prima, quindi come eccezione, Eugenio per accontentarlo in questo desiderio. Una famiglia aperta, diciamo, a mettersi a disposizione proprio, no? Cerchiamo. C'è stato donato tutto e quindi credo che è il minimo che possiamo fare. Non è che lo dobbiamo fare che Dio ce lo richieda, è una cosa che viene dal cuore, che viene da dentro.